rappresentante della categoria degli esperti giudici italiani Gianni Folgenzi grazie per aver accettato il nostro invito è veramente un piacere averla qua con noi a valutare per il momento i gruppi di allevamento poi vedremo chissà che cosa ci riserva bene potete accomodarvi all' uscita magari fischiando mi sentono è il vostro turno non abbiate timore gruppi di allevamento quanti ne abbiamo per ora vediamo avanzare baldanzosi i pastori tedeschi prego un applauso per il gruppo di pastori tedeschi sappiamo che il l'amico Gianni Folgenzi sarebbe stato capace di cimentarsi anche con un numero maggiore ma adesso il la sorte ci dà un risultato obbligato dunque provo a dirlo io no non posso un bel giro un bel giro magari gli facciamo fare un po di esibizione anche è up down fate un bel giro complimenti vogliamo apprezzare il movimento il trotto di questi meravigliosi animali molto sportivi i cani molto sportivi anche i conduttori beh insomma forse non tutti e bisogna guadagnarsene le cose adesso posso proclamare il vincitore vincitore di questo raggruppamento delle razze dei gruppi di allevamento con piacere vi comunico che sono i pastori tedeschi complimenti un bel applauso abbiamo allungato un po il brodo ma dovevamo cercare di dare un po di risalto adesso tra l'altro il gioco si fa duro perché siamo arrivati ai raggruppamenti per chi non viene sempre non frequenta assiduamenti raggruppamenti sono dieci gruppi all'interno dei quali vengono classificate tutte le razze di cani e oggi abbiamo il primo il terzo il sesto il settimo il decimo il vincitore di ogni raggruppamento rimarrà con noi per presentarsi domani e dunque continuerà la sua esposizione per presentarsi domani alla disputa del best in show cioè il miglior soggetto che ha partecipato a questa bellissima